Io ringrazio al Signore che mi ha detto questa gioia, per me è stata una gioia in mente. Il padre Matteo è un signore Poso. Il suo segreto è stato che ha amato e tutti si è dato da fare con tutti e attualmente prega per tutti. Quindi questi sono i segni belli della sua età, non devia. Va bene? Grazie a tutti. Il ringrazio al padre, è sempre che ringrazio il Signore con tutto il cuore che io non mi aspettavo tutto questo. E il Signore quando lo prego mi fece questa grazia particolare. La grazia fu particolare perché io non mi aspettavo questo. Grazie di tutti e anche del popolo. Mariano, siamo qui con Quartararo per una festa importante, per la festa della Signore Leonora che compie 100 anni. Un evento molto importante, molto importante. È un traguardo che tutti auspichiamo a raggiungere in grazia di Dio. Gioacchino come persona molto sensibile, qua nel quartiere lo conoscono tutti, e ha voluto anche stavolta essere presente con le sue squisitezze di pasticceria e gastronomia e quant'altro, proprio per festeggiare assieme a Nonna Norina, che ben conosciamo proprio per la vicinanza, questo traguardo appunto molto importante. Grazie a tutti.